Sarà un programma molto ricco, fatto sia dall'amministrazione per quanto riguarda l'aspetto fiera, ma soprattutto per tutti gli eventi collaterali che sono stati organizzati dalla comunità di Tegoleto. Quindi un grazie ancora al mondo del volontariato, perché è proprio grazie anche a loro che riusciamo come amministrazioni a poter portare avanti fiere di questo genere. Fiera di San Biagio, ma soprattutto fiera del pane. Noi vogliamo valorizzare uno dei nostri prodotti caratteristici di tradizione, che è il pane, ma non solo, perché accanto appunto a espositori di pane ci saranno espositori e produttori di altri prodotti tipici, miele, frutta, formaggi, vino. Quindi raccogliere un po' quelle che sono le tradizioni, i saperi e i sapori di tutto il nostro territorio provinciale. Momento importante, ce ne sono molti, però diciamo che sicuramente è la mostra dei lavori di ricerca che hanno fatto i bambini dell'Istituto Comprensivo di Civitella, il concorso che è arrivato al secondo anno delle torte di Nonna Papera, quindi dove tutte le signore e anche i ragazzi si esibiranno appunto nel produrre delle torte, chiaramente che avranno come ingredienti il pane, ma non solo, frutta, marmellata. La sera, per concludere questa, diciamo, intensa giornata, ci sarà una degustazione dal titolo, se non è zuppa e pammollo, e quindi che vuol ricordare quelle che sono le nostre tradizioni. Grazie.